In questura a Napoli inaugurati i locali di una casa aperte, destinati all'accoglienza e all'ascolto anche in forma protetta di donne vittime di violenza e minori. Taglio del nastro col capo della polizia Lamberto Giannini e l'equestore Alessandro Giuliano. Al sesto piano dello storico palazzo di Via Medina anche nuovi uffici dove saranno ospitati squadra mobile, divisione anticrimine, le sale intercettazioni e una sala multimediale rispondente ai più alti a standard tecnologici.